Rosati a chi dedica questa vittoria, che comunque sarà determinata anche dai suoi interventi, come ricordava Cori? La dedico a me, a me stesso. A mia moglie, a miei bimbi che soffrono insieme a me. Complimenti Antonio, anche per la grande umanità di Antonio Rosati, a sua grande semplicità, sempre molto onesto, obiettivo. Un pizzico di commozione per Antonio, che ringraziamo davvero.